Allora, tanti di voi mi hanno detto che sono finito in un video di Kendal e vorrei vedere quali esattamente. Allora, andiamo qui e se non sbaglio questo era il video, entro nel mondo di un fan su Minecraft. Ok, iniziamo a cercare. Chi per la carpi reference? Silvio? Carpi 2.0